Quelli dell'Ultimo è una proposta rivolta ai giovani dai 16 ai 35 anni. È una proposta di capodanno alternativa. Perché? Perché è una proposta che contiene in sé la festa, contiene in sé la musica, i balli, il cibo, ma contiene anche un modo diverso di fare festa. Contiene un ingrediente in più, che è la condivisione. Quelli dell'Ultimo è un capodanno in cui si trascorre il pomeriggio e la serata in una quarantina di realtà di accoglienza della città di Vicenza, che ospitano persone senza dimora, persone anziane, persone disabili e non solo. È un capodanno quindi basato sulla prossimità. È un capodanno per chi vuole passare una festa diversa, vuole iniziare il 2020 con una marcia in più. È un'esperienza forte di prossimità e di servizio. L'appuntamento con Quelli dell'Ultimo sarà per il 31 dicembre alle ore 14 nella parrocchia di San Giuseppe Mercato Nuovo Vicenza. Tutte le info e le iscrizioni le trovate sul sito www.quellidellultimo.it. C'è tempo fino al 23 dicembre per potersi iscrivere. In più, oltre alla giornata del 31 dicembre, si può partecipare a Verso l'Ultimo, una tre giorni di convivenza, condivisione per entrare con più intensità e più in profondità nei temi, nelle esperienze, nei movimenti che Quelli dell'Ultimo può aiutarci a fare. Uno di questi movimenti, che quest'anno è un po' il nostro tema, è lo sbilanciamento. Cioè l'idea che per incontrare l'altro bisogna uscire dalla nostra comfort zone, bisogna esporsi, bisogna fare un passo di disequilibrio, rischiare un pochino, ma ne vale la pena. E sarà questo un po' anche il tema su cui pregheremo, la sera del 31 dicembre con una veglia insieme per tutti quelli che ritornano prima dalle realtà. Anche questo è un momento per interiorizzare l'esperienza, per farla nostra, per pregarci su, per esporci verso e con qualcun altro.